Ipi! Ura! Ipi! Ura! Ipi! Ura! Oh bravi! Oh bravi! Oh bravi! Oh bravi! Oh bravi! Oh bravi! Ecco il nostro Gianluca! Gianluca ecco i nostri ragazzi il nostro Michele mi pare che ha chiamato il tuo padre però dopo si interrotta la telefonata ciao a noi ciao a noi i campionati del Vallo ciao a noi ciao a noi i campionati del Vallo ciao a noi